Buongiorno, ben ritrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Leggiamo subito insieme le principali notizie di oggi, martedì 19 agosto. Iniziamo proprio dalla stampa locale, leggendo il quotidiano del Molise. Dove troviamo appunto la cronaca, strade killer muore dopo lunga agonia il cuore del 66enne Antonio Lombardi, ha smesso di battere troppo gravi le ferite. Coinvolto in un incidente il 1 agosto, dove ha perso la vita anche il fratello Giovanni, di 60 anni. Molisani litigiosi, isernia i primi posti per numero di cause. Anche a Campobasso, alto il tasso di contenziosi aperti. Economia, moneta alternativa, la Regione cerca il partner. Legge elettorale, presto la proposta in aula si punta alla circoscrizione unica. Termoli, giovane ladro incastrato dalla ferita alla mano, aveva tentato di rubare un videopoker. Sessano del Molise perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato. Isernia, chi è Gigetto Brasil, impazza il tormentone, in città non si parla d'altro. Chi si nasconde dietro il profilo Facebook di Gigetto Brasil, un fake che va contro il primo cittadino. Campobasso, farmacie comunali, Palazzo San Giorgio cerca 6 unità, 3 con contratto a termine e altri 3 a tempo indeterminato. Vediamo lo sport, Coppa Italia pubblicati calendari si parte domenica 31 agosto. Ancora sport, lo zar Maiellaro a un passo dal Pietramonte Corvino. Basket, DNB, la Dynamic Venafro, piazza il colpo argentino Correl, atletica di Mario Triunfanche, a Petrella Tifernina. Vediamo insieme l'interno. Giustizia, molissani litigiosi, la provincia di Isernia a settimo posto per numero di cause ogni mille abitanti. Indagine del sole 24 ore, il Molise tra le aree con il più alto tasso di contenziosi aperti tra il 2012 e il 2013. Associazione tedeschi, un aiuto per il Camerun, sarà possibile contribuire alla raccolta di materiale fino al 25 agosto. La Onlus invierà il materiale a due orfanotrofi gestiti da Suor Filomena Zappone. Col diretti al ristorante è riconosciuto il diritto di pensare agli amici a quattro zampe. Scarabeo, il Molise punti all'Albania, il paese delle aquile potrebbe essere un ottimo sblocco per le imprese, l'assessore regionale, possiamo creare occasioni importanti per gli operatori economici molissani. Legge elettorale verso l'approdo in aula, l'impegno del presidente Niro. La regione punta sulla moneta complementare, ora si cerca il partner, il sistema si sta diffondendo come parziale contrasto alla crisi economica. Area di crisi, Petraroia e Leva frenano i facili entusiasmi. Bene, adesso passiamo al quotidiano online, informa Molise e leggiamo anche qui le notizie che riguardano l'attualità. Strada statale 16, Monaco, attivare subito un tavolo di confronto per la messa in sicurezza della statale. Il Molise stupisce ed affascina José Angelhevia. Le verifiche prima del versamento del 20 agosto. Sepino rassegna Canora premi dedicata all'esecuzione di antiche serenate. I carabinieri di Termoli sventano un furto ad un bar, una persona denunciata. Giuseppe Cristofaro, nuovo comandante della Guardia di Finanza di Termoli. Vediamo adesso le notizie riportate sul primo piano Molise. Corte d'appello e mobilitazione. Gli avvocati chiamano la delegazione parlamentare senza l'ufficio. Il Molise torna indietro di 30 anni. La riforma del ministro Orlando cancella. La procura distrittuale mette a rischio l'articolazione dell'apparato di sicurezza. Il dibattito. Area di crisi, Leva frena la fuga in avanti di Tedeschi. L'Iter richiede rigore. Le dichiarazioni del responsabile economico del PD innescano un caso. Il deputato e i trionfalismi non aiutano. Sessano giù nel dirupo con l'auto conducente miracolato per recuperare il mezzo necessario alla gru del 115. Capriati al Volturno, schianto sulla provinciale 16, sale a due il numero delle vittime. Dopo 16 giorni di agonia muore Antonio Lombardi. Il fratello era deceduto sul colpo il primo agosto. Rocca Ravindola svaliggiata una casa in pieno giorno. Bottino da 3.000 euro. I ladri portano via oro e gioielli. Corsa alla provincia. Brasiello cauto. Sentirò prima i partiti. Il sindaco di Sernia si prepara ad un autunno caldo. Lo stop del municipio. La spiaggia di Termoli. Off limits agli amici a quattro zampe. Campobasso. Al comune si lavora la festa di fine estate. L'ex notte bianca si terrà a settembre. Serie D. Olimpia. Stasera la presentazione della rosa e del nuovo staff tecnico. Podismo. Giù i veli sul terzo trofeo. Città di Agnone. Tante le sorprese. Leggiamo le prime due pagine. Area di crisi. Leva bacchetta tedeschi. Le fughe in avanti non aiutano. Il deputato PD gela l'entusiasmo dimostrato dal responsabile economico del partito in un'intervista. Formazione. La Will attacca. Non c'è un sistema utile al Molise. Mancini parte dalla chiusura di trend e sintetizza. Gli operatori brancolano nel buio. 60 anni fa la morte dello statista. L'Unione Europea nel segno di Alcide De Gasperi arrenzi la sfida di realizzarla nel semestre di presidenza italiana. Disegno di legge Orlando. Avvocati in trincea. Così sparisce la regione. La riforma cancella la Corte d'Appello. SOS degli ordini ai parlamentari. Tremano i tribunali di Larino e i Sernia. Senza la procura distrettuale. A rischio l'articolazione della sicurezza. Rivellino indietro di 30 anni. Cause e ricorsi. Molissani litigiosi al top nella classifica del sole 24 ore. A Campobasso un processo ogni 84,9 abitanti nella provincia Pentra. Il dato sale a 91. Sviluppo. Scarabeo punta sull'Albania. Occasioni importanti per le nostre aziende. L'assessore alle attività produttive ha programmato incontri bilaterali per l'autunno. Bene, passiamo adesso all'informazione che riguarda il paese. Quindi leggiamo il Corriere della Sera. È lecito fermare l'aggressore, il pontefice. Siamo come nella terza guerra mondiale, ma a capitoli Francesco e l'Iraq. La scelta sulla modalità di intervento spetta all'ONU e scherza sulla propria morte. Due, tre anni e via. Giustizia civile, via libera di Napolitano. Restano i nodi sulla parte penale e soprattutto sulle intercettazioni. Il ministro Orlando dal presidente. Le novità. Processi rapidi. Niente più arretrati. Divorzio senza magistrato. Fisco. Sempre più italiani pagano le tasse a rate. Conti pubblici. Renzi. In nessun caso noi sforeremo il 3%. Il tribunale alla clinica. Fate l'eterologa. Ordinanza a Bologna in favore di due coppie. Non c'è vuoto legislativo. Bene, leggiamo adesso la pagina nazionale del tempo. Attenti ai ladri a Roma. L'allarme del governo giapponese su Roma insicura. Il dato shock della procura di Roma e PM. Apriamo 50 fascicoli al giorno sui Rom. Ecco le armi made in Italy ai kurdi in Iraq e il nostro appoggio contro gli S. Se il ministro previsioni sbagliate e ora Padoan fa il gufo, la ripresa non c'è. Niente decreti attuativi, tante leggi bloccate. La burocrazia frena l'Italia. Aumentano i pignoramenti romani superlitigiosi. Record di cause civili. Dopo le proteste a Carpineto, annullata la passerella dell'ex BR Balzerani. E adesso la stampa. Il Papa sui conflitti globali è una guerra mondiale. La stiamo vivendo a pezzi Iraq. Fermare l'aggressore e non bombardare. Intervista collettiva a Francesco sul volo di ritorno dalla Corea pronto ad andare in Kurdistan. Roma e Augusto, la brutta celebrazione duemila anni fa, moriva il primo imperatore, mausoleo chiuso e manifestazioni sotto tono. Le idee. Se si spezza il benessere del cento medio, fisco a rate dal 2015, Equitalia offrirà la scelta con le cartelle che saranno precompilate. Vediamo adesso le notizie riportate dal messaggero. È lecito fermare gli aggressori. Anche qui la dichiarazione di Papa Francesco. C'è una terza guerra mondiale che si combatte a pezzetti. Deve intervenire l'ONU, non gli Stati Uniti. Sono pronto ad andare in Kurdistan anche subito. La manovra arriva a 23 miliardi. Governo diviso sul taglia debito. Escluse nuove tasse. Si punta tutto sulla spending review. Ebola più veloce del previsto. L'Italia intervenga sugli sbarchi. All'allarme serve un cordone internazionale. E adesso lo sport. Leggiamo insieme la Gazzetta. Allarme rossi. Timore menisco. Salta. La Roma e la Nazionale. Un tormento. Si ferma ancora la punta dei Viola. Scartato per il Mondiale. Ginocchio in sovraccarico. Tra una settimana nuovi esami. Fiorentina in ansia adesso pensa di tenere Quadrado. E forse Prandelli. Napoli per tutti. Champions andata preliminare a San Paolo alle 20.45. Dopo il flop in Brasile. Il nostro calcio cerca un riscatto. Eliminando l'Atletic Bilbao. I partenopei raggiungerebbero Juve. E Roma. L'Italia avrebbe tre squadre. Come la Spagna. Palla al centro. La mamma di Esposito. Il mio Ciro sarebbe a tifare in curva B. Andrò io al suo posto. Inter. Tohir vuole l'Europa. Mazzarri non può sbagliare. Cerci all'Atletico. È un giallo calciomercato fumata nera col Milan. Il gioiello del Torino verso Simeone. Un tweet partito dal suo account annuncia l'accordo con i madrileni. Il Granata non l'ho scritto io. Nazionale. Si tratta ancora per il contratto. Oggi Conte e Cittita. Vecchio. Antonio e shock positivo. Bene, con questo è tutto. Grazie per averci seguito. Vi lascio ora alle previsioni del tempo. Arrivederci. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per martedì 19 agosto. Pressioni medio-alte continuano ad interessare le regioni meridionali rinnovando così condizioni di bel tempo prevalente. Temperature stabili o in lieve rialzo. Venti deboli settentrionali, mari poco mossi. Campobasso minima 16, massima 29 gradi. Isernia minima 14, massima 29 gradi. Termoli minima 22, massima 28 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero.